Non è stato accolto il ricorso presentato dalla difesa del 54enne Giuseppe Cinardi. In primo e secondo grado fu condannato a 14 anni e 4 mesi di reclusione per l'omicidio del 33enne Maurizio Peritore. La vittima riportò ferite profonde a seguito di più coltellate ricevute. Uno dei fendenti si rivelò fatale andando a ledere un organo interno. Il 33enne morì tra le palazzine popolari di viattica al culmine dell'ennesimo diverbio con il cognato poi arrestato. Cinardi per il tramite del suo legale di fiducia, l'avvocato Salvo Macri, ha sempre spiegato di essersi difeso, sarebbe stato aggredito da Peritore e pare che entrambi fossero armati. Già in primo grado al termine del giudizio abbreviato il GUP del Tribunale di Gela escluse la premeditazione come chiesto dalla difesa. A Cinardi fu imposta una pena di 14 anni e 4 mesi di reclusione mentre l'accusa chiedeva il carcere a vita. In Cassazione dopo la conferma dei giudici della Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta la difesa ha proposto un ampio ricorso ripercorrendo diversi aspetti giuridici delle contestazioni mosse a Cinardi ma anche delle precedenti decisioni. Il ricorso non è stato accolto e la pena è diventata definitiva. I giudici romani hanno valutato le richieste difensive ma hanno ritenuto di confermare la sentenza di appello. La difesa già negli altri gradi di giudizio aveva sottolineato che anche l'imputato rimase gravemente ferito. Furono sollevate diverse valutazioni sull'effettiva dinamica dei fatti. Cinardi comunque ammise la colluttazione e l'uso del coltello. Tra i due pare che i rapporti fossero molto tesi. Prima della lite dei coltelli sarebbe stato Peritore a chiedere spiegazioni a Cinardi lo ritene responsabile del danneggiamento della sua automobile. Dopo parole pesanti sembra siano spuntati i coltelli anche la moglie di Peritore presente durante la colluttazione rimase ferita ma senza troppe conseguenze. La difesa nel ricorso piuttosto ampio ha toccato diversi punti della decisione di appello. I familiari della 33enne ucciso nel procedimento sono parti civili con gli avvocati Giacomo Ventura e Maria Elena Ventura. Gli era già stato riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni e i legali hanno sempre spiegato che Cinardi agì per uccidere a seguito di rapporti personali ormai del tutto compromessi. Le parti civili hanno sostenuto la conferma della condanna di secondo grado.